Mi chiamo Michela Sozzo e sono di Napoli. Ho frequentato per tre anni un laboratorio sul teatro napoletano che mi ha dato la possibilità di conoscere le opere di Edoardo De Filippo. Successivamente ho seguito un corso di recitazione cinematografica presso la scuola La Ribalta. Ho recitato a teatro nella serie tv I bastardi di Pizzo Falcone e in alcuni cortometraggi. Da due anni frequento il corso La strategia dell'attore con registi e casting director organizzato dall'Accademia Professione Artista. Grazie. Grazie.